Affariitali.it incontra Mario Boselli, presidente della Camera della Moda. Siamo alla presentazione di Milano Moda Donna a Palazzo Marino. Quest'anno quali sono le principali novità? Devo dire, abbiamo i nostri splendidi giovani, che abbiamo il primo giorno, sono sia quelli del Fashion Incubator che New One Coming Design. Vedrete delle offerte molto fresche, molto attuali, molto eleganti. Hanno già avuto ampi consensi, quindi credo che sia il segno migliore per dare il là alla settimana della moda. Quante sfilati, quante presentazioni, numeri in crescita o in decrescita? No, sono stabili, per fortuna. Il dettaglio sono 87 sfilate, 87 presentazioni più 44 su appuntamento. E' vero che Anna Wintour, la direttrice di Vogue America, è davvero la regina della moda e che può cambiare l'ordine delle sfilate e il calendario? Direi che non è certamente la regina della moda. Diciamo che è una direttore importante, di una testata importante, e che tende a incidere anche al di fuori dell'ambito editoriale proprio. In Italia gli diamo più ascolto, o perlomeno alcuni gli danno più ascolto, in Francia no, ma questa è la vita. Perché in Francia il settore moda si unisce di più contro le tirannie di la Wintour in questo caso? Ci sono due considerazioni, una strutturale, i gruppi della moda importanti sono due, è più facile mettere d'accordo due grandi entità che vari gruppi di livello alto, ma di massa media, come li abbiamo in Italia. E la seconda è che la moda francese ha più del doppio di storia della moda italiana e quindi c'è una maggior consapevolezza. I nostri sono più bravi dei francesi, ma a volte dimostrano di non saperlo, di non dimostrarlo. Il risultato finale è un calendario che lei ha definito forte nei giorni centrali con due giorni decenti, il primo e l'ultimo. Io dico che i quattro giorni centrali più che forti sono da delirio, quindi credo che ci faremo male un po' tutti, però questo è stato quello che ne è uscito e quindi vediamo un attimo come va a finire. Certamente saranno giorni di grande stress. L'ultima domanda, non solo sfilate, Milano Moda Donna sta aprendo le porte anche all'arresto della città con eventi che stanno aumentando. Può anticipare qualcosa? Guardi, noi abbiamo l'assessore Terzi che illustrerà questo progetto con una serie di iniziative e l'assessore Finazzer Flori per la parte più artistica e culturale. Credo che la moda si apre e devo dire un esempio di maggiore apertura rispetto magari al resto della città. Affariitaliani.it incontra l'assessore Giovanni Terzi, assessore alla moda. Siamo a Milano Moda Donna, alla presentazione di Milano Moda Donna a Palazzo Marino. Quest'anno come risponderà il comparto moda alla crisi e anche alle tirannie di Anna Wintour? Beh, reagirà intercettando il cambiamento che è un cambiamento epocale, non solamente nel nostro paese perché la crisi ha determinato questo e quindi intercettare il cambiamento significa iniziare a lavorare di sistema con gli stilisti, con la camera della moda, con tutti coloro che hanno dato vita a un mondo produttivo straordinario un tessuto produttivo straordinario come quello della moda nella nostra città e ragionare su un settembre soprattutto che sia un settembre veramente un pochettino magico per la nostra città e sia veramente rispolverare quello che è stato negli anni precedenti. Con la Presidente della Camera della Moda, Mario Boselli, abbiamo commentato il calendario che si è visto restringere negli ultimi giorni anche a causa di Anna Wintour. Cosa puoi dirci? Io credo che non dobbiamo dare la responsabilità solamente a una persona. Noi dobbiamo iniziare a ragionare in maniera molto meneghina, in maniera molto pragmatica cercando di capire quali sono le nostre responsabilità su questo. E noi oggettivamente dobbiamo cercare di allungare il calendario. Allungare il calendario perché la stampa internazionale durante la moda è qui presente a Milano e quindi per Milano può essere veramente un veicolo straordinario di marketing e di comunicazione. Quindi da questo punto di vista lo sforzo è essere massimo da parte delle istituzioni, del comune e di tutte le istituzioni che lavorano nel mondo della moda. Non vorrei andare solamente sulla polemica con Anna Wintour perché mi sembra sterile e poco fuori era di cose positive. Non solo sfilate. Negli ultimi anni Milano-Boda Donna ha significato sempre più spesso parti ed eventi aperti tutta la città. Quest'anno che cosa si prospetta? Ma quest'anno inizia continua la collaborazione con alcuni stilisti, con la Camera della Moda proprio per quello che riguarda l'apertura della città di alcune sfilate. Noi abbiamo fatto l'anno scorso a settembre con Costume Nazionale la sfilata in Piazza Duomo. Andremo avanti a ragionare sui giovani, andremo avanti a ragionare sull'apertura delle sfilate, andremo avanti a ragionare in sistema con gli alberghi, con i ristoranti e quant'altro. Quindi diciamo una Milano che sta cercando di riscoprire in maniera molto pragmatica quali sono un po' le nuove ricette per riprendersi in mano il primato della moda che secondo me ancora oggi non è a rischio. Hai citato il defilé a Piazza dell'Uomo. Ci sarà qualcosa di simile quest'anno? Non in questo momento. Stiamo costruendo un'operazione di nuovo su settembre che però sarà un'operazione di sistema. A settembre Milano farà vedere quello che è capace di fare. Che cosa ci puoi dire rispetto alla città della moda in Piazza Garibaldi, insomma in zona Garibaldi? Credo che sia un momento di criticità economica per tutto il paese. Bisogna ragionare per cercare di sviluppare le idee e la creatività in questo senso. Le risorse sono poche e quindi dobbiamo saperle utilizzare bene. Da questo punto di vista c'è in atto sempre un ragionamento per capire come modificare la città della moda in Piazza Garibaldi. Grazie.